Perché lo scopo è quello di far assaporare le nostre pietanze senza guardarle, riscoprendo i veri sapori, la vera freschezza e la vera qualità. La cena si svolgerà interamente al buio. I nostri camerieri saranno dotati di un caschetto a luci infrarosse, ma nessun partecipante riuscirà a vedere quello che mangia. Purtroppo, molto spesso, sono le gran varietà di guarnizioni o le gran salse che vengono poi a modificare quelli che sono i gusti reali dei prodotti. Il ricavato andrà interamente alla Lega del Filodoro, l'associazione dei non vedetti. Allora, la cena si svolgerà l'11 giugno alle ore 20.30, presso appunto il ristorante antico Spessotto di Portogruaro e per prenotare basta farlo 0421 280 393. Grazie a voi. Grazie a voi.